Il progetto che è stato presentato oggi sul rinnovamento di tutta l'area e di questo campus credo che sia una cosa incredibilmente bella e da cercare in breve tempo di poterla raggiungere perché se partiamo, bisogna sempre partire dall'origine credo, siamo partiti in due locali di una portineria e di una villa con 40 ragazzi, siamo arrivati a 230 ragazzi e questa esigenza di campus nasce da loro. Deve essere, contagiamoci diciamo, i ragazzi hanno delle esigenze vere, il territorio ha delle esigenze è come se si deve interagire col territorio stesso per poter sempre dare maggior spazio a questa iniziativa e all'abbellimento e al turismo, credo che sia indispensabile da subito direi. Grazie 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 Grazie